Conto alla rovescia per le elezioni regionali. Circa 4 milioni e 600 mila gli elettori chiamati alle urne per scegliere domenica 5 novembre il prossimo governatore della regione ed eleggere i deputati della nuova assemblea. Un'elezione attesa che servirà a misurare i rapporti di forza tra i partiti politici in vista della partita per Palazzo Chigi che si giocherà nella primavera del 2018. A Caltanissetta sono 56.558 gli aventi diritto al voto di cui 26.942 uomini e 29.616 donne. Le urne siciliane saranno aperte dalle ore 8 alle ore 22. Ai cittadini che andranno a votare, muniti di tessere elettorale, valido documento di identità sarà consegnata una scheda gialla suddivisa in rettangoli, ognuno corrispondente a una lista provinciale. Di fianco a ogni lista provinciale è indicato il nome del candidato alla carica di governatore. Si dovrà barrare con una X la lista provinciale prescelta. C'è la possibilità di esprimere una preferenza per il candidato deputato all'assemblea regionale preferito, scrivendone il nominativo. Sulla destra poi si dovrà assegnare con un'altra X il nome del candidato alla presidenza della regione, il simbolo della sua lista, o entrambi. È valido il voto disgiunto, ovvero sarà possibile votare per una lista provinciale e una lista regionale non collegate tra di loro. Qualora venga espressa la preferenza solamente per una lista provinciale, il voto andrà automaticamente alla lista regionale ad essa collegata. L'elezione del presidente della regione è diretta e a suffraggio universale. Non è previsto alcun ballottaggio, vincerà il candidato che otterrà la maggioranza dei voti. Cinque candidati alla poltrona di palazzo d'Orleans, Giancarlo Cancelleri per il Movimento 5 Stelle, Claudio Fava alla guida dell'area di sinistra appoggiato dai bersagliani di articolo 1 MDP, sinistra italiana possibile e verde. Per lui anche altre forze di sinistra come il Partito Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano. Roberto Larrosa, candidato di Siciliani Liberi, Fabrizio Micari, candidato del centrosinistra, sostenuto dal Partito Democratico, da Alternativa Popolare di Angelino Alfano e dalle liste Sicilia Futura e Micari presidente. Il centrodestra si schiera compatto con Nello Musumeci, sostenuto da Forza Italia, Noi Consalvini, Fratelli d'Italia, Udc e dalle liste popolari e autonomisti e diventerà bellissima. Oltre al presidente, i cittadini eleggeranno i membri dell'assemblea regionale. Per la prima volta scenderà il numero degli eletti, non saranno più 90, ma 70 dopo le modifiche introdotte dalla legge costituzionale numero 2 del 7 febbraio 2013. Dei 70 deputati, 62 saranno designati con metodo proporzionale su base provinciale, con liste collegate a una lista regionale per la quale è prevista una soglia di sbarramento fissata al 5%. I deputati eletti per Palermo saranno 16, 13 per Catania, 8 per Messina, 6 per Agrigento, 5 rispettivamente per Siracusa e Trapani, 3 per Caltanissetta e 2 per Enna. Dei restanti 8 deputati da eleggere, 7 compreso il presidente, fanno parte del cosiddetto listino, la lista regionale del candidato presidente. Si tratta di una lista bloccata che funziona come una sorta di premio di maggioranza per il vincitore della tornata elettorale. L'ultimo seggio infine spetta il candidato arrivato secondo nella consultazione.